Come si purificano le anime. 1 febbraio 1978. Figli a me tanto cari, sia pace a voi. Sono la Vergine Immacolata. Sono qui con voi per farvi un duplice invito. Domani, mentre ricorderete l'offerta fatta da me al Padre, del suo Figlio Divino, al Tempio, ricorderete anche la mia purificazione. Veramente, Gesù coi suoi meriti mi aveva preservata dal peccato, applicandomi i frutti della sua passione e morte, per cui non era necessaria quella cerimonia della purificazione. Era però un'usanza presso gli ebrei, ed io volentieri accettai di mettermi con tutte le mamme ed offrire a Dio il mio sacrificio. La redenzione doveva conquersi con l'umiliazione così grande di Gesù, che si era fatto uomo, e la vostra collaborazione deve sempre portare l'impronta che la distingue e la santifica, quella dell'umiltà. Ma poi vi dirò meglio quello che è necessario fare. Il mio secondo riferimento è la segnalazione di una data molto importante per la Chiesa e per il mondo, quella della mia apparizione all'Urd. Come per la festa della purificazione io vi chiedo una partecipazione fatta di umiltà e di dolore dei peccati, perché l'anima vostra possa riavere quello splendore che ebbe quando usci dalle mani di Dio. Così, nel ricordare la mia apparizione all'Urd, vi chiedo di ascoltare le mie parole, invitanti alla preghiera e alla penitenza per la conversione e la salvezza dei peccatori. Due inviti che si sintetizzano in due parole. Santificatevi per santificare. Molte persone sentono l'attrattiva per un bene puramente umano, altre sentono come una chiamata particolare ad agire, ma non hanno la forza di corrispondere perché si richiedono loro sacrifici. Forse, anche qualcuno tra voi potrebbe essere tra questi. Occorre scuotere quella freddezza e quella apatia che vi rende freddi nel fare il bene, ma, perché il fervore diriga sempre le vostre azioni, occorre far entrare lo Spirito Santo nelle vostre anime con la sua sapienza, con la sua luce, con la sua forza. Dio non può entrare in quelle anime troppo prese da cose umane, che non fanno che imbrattare questo tabernacolo dove la Santissima Trinità vuole dimorare con pieni poteri. Ecco perché è necessaria la purificazione. Volete sapere come si purificano le anime? C'è il sacramento della confessione, che Gesù istitui a questo scopo. Ma ci sono altri mezzi che perfezionano questa purificazione e che possono renderla perfetta, sono le umiliazioni che si incontrano nella vita, che, accettate per amore di Dio, assumono un valore inestimabile. Quante volte si sanno fare sacrifici che sembrano eroici, e non si sa accettare un rimprovero, un ammonimento, un'osservazione, senza che l'amor proprio faccia ricalcitrare il proprio io che reclama i propri diritti. Sapeste, figli, il pregio di un'umiliazione accettata? Vi dico che può essere proprio questa il mezzo per conservare armonia e pace, per aprire un dialogo e poter farsi capire, ma soprattutto davanti a Dio è cosa grande, poiché chi si umilia, il Signore lo esalta e gli dà un posto di privilegio nel suo cuore. Quando io vi ricordo la mia apparizione, vi invito alla penitenza. È così che l'umiltà diventa un mezzo di redenzione, poiché umiliarsi davanti a Dio significa pentirsi, e pentirsi significa avere, col perdono di Dio, la grazia per chiamare i peccatori accanto al mio e al suo cuore. Figli, non vi chiedo grandi cose. Vi chiedo soltanto di saper approfittare di tutte le occasioni, che il Signore mette a vostra disposizione durante la vostra vita, per trarre da esse quel profitto spirituale che il Signore vuole da voi. Figli, quando io andai al Tempio per presentare al Padre la mia offerta, incontrai Simeone e la profetessa Anna, che gioirono nel vedere il mio Gesù e nel vedere me. Quando io apparì alla Bernardetta, il suo cuore esultò di gioia. Ma questi personaggi dovettero soffrire ancora nella vita, e non furono loro risparmiate umiliazioni e croci. Voi mi incontrate nel Rosario, che con tanto amore recitate sia qui che nelle vostre case e nelle vostre chiese. Ascoltate le mie parole e vi integrate, ma la croce non vi viene risparmiata, e molte volte l'umiliazione vi fa soffrire. Ebbene, sappiate che, se in questi pochi giorni in cui siete sulla Terra, saprete con gli occhi della fede incontrare il Signore in ogni sofferenza, lo rivedrete, il Signore, nella gloria e la vostra gioia sarà infinita. Le umiliazioni che avrete sopportate, e con le quali avrete salvato le anime tanto care a Dio, aumenteranno la vostra gloria, che sarà senza fine e senza misura, pari a quella che ha coronato la mia vita terrena. Vi benedico tutti, figli. Darò un'assistenza particolare a coloro che partiranno per i santi esercizi, e a coloro che si uniranno ad essi pur restando a casa, darò grazie speciali. Arrivederci, figli. La pace e la gioia siano in voi ora e sempre.